In un decennio gli infortuni sul mare diminuiti di oltre un mezzo. I dati dell'ultimo rapporto annuale dell'INAIL relativi al comparto marittimo rivelano una riduzione del 38% nel periodo compreso tra il 2002 e il 2011, da 1642 casi a 1.002. La maggior parte del naviglio assicurato è impegnato nell'attività di pesca costiera e quasi tutte le denunce riguardano episodi avvenuti a bordo. Roma. Nel decennio compreso tra il 2002 e il 2011, gli infortuni sul lavoro nel comparto marittimo denunciati all'INAIL si sono ridotti di circa il 38%, passando da 1.614 casi a 1.002. Come emerge dalla parte dell'ultimo rapporto annuale dell'Istituto dedicata alle statistiche di infortuni e malattie professionali, il calo è stato particolarmente rilevante tra il 2010 e il 2011, con una diminuzione pari al 21%. Assicurati gli equipaggi di più di 7.000 imbarcazioni. Sono 988, pari al 98,6% del totale, gli infortuni che nel 2011 si sono verificati sul luogo di lavoro, ovvero a bordo delle navi, mentre nel restante 1,4% dei casi, 14 in termini assoluti, si è trattato di infortuni in itinere, occorsi cioè nel percorso casa-lavoro-casa. Nello stesso anno, il settore navigazione dell'Inail ha assicurato gli equipaggi di 7.198 imbarcazioni per conto di 5.012 imprese armatoriali. La maggior parte del naviglio assicurato, circa il 46%, è stato impegnato nell'attività di pesca, svolta prevalentemente lungo le coste continentali e insulari italiane, a distanza non superiore alle 20 miglia. Sia le unità assicurate che le imprese armatoriali sono risultate in leggera crescita, rispettivamente del 2,8% e del 2,3% rispetto all'anno precedente. Oltre la metà dei casi sulle navi passeggeri Con oltre la metà dei casi, le navi passeggeri sono quelle in cui si è verificato il maggior numero di infortuni sul luogo di lavoro e insieme alla categoria del carico, trasporto merci e al settore pesca, coprono oltre l'85% dei casi avvenuti nel 2011. Dal punto di vista della variazione del numero degli infortuni rispetto al 2010, il calo per le categorie passeggeri, carico e pesca è stato rispettivamente del 23,5%, 19,6% e 15,5%. La distinzione tra registro italiano e internazionale. L'INAIL, in particolare, assicura contro gli infortuni e le malattie professionali tutti i lavoratori che compongono l'equipaggio delle navi che battono bandiera italiana, compresi quelli addetti ai servizi alla persona, come hostess, cuochi, camerieri, parrucchieri, musicisti, a bordo dei natanti adibiti al trasporto passeggeri. Sulle navi iscritte nel registro internazionale, come la costa Concordia naufragata all'isola del Giglio, l'istituto assicura invece soltanto il personale comunitario.